a a a ben ragazzi volevo dire iscrivetevi al canale vedete questo bel video e un'altra cosa io ho saltato questa partita per sbaglio 1 contro squad godetevi la partita iscrivetevi al canale twitch per nuovi regali e ricordatevi che vi sono i contest per i vipack vediamo il video e poi vediamo il video e poi vediamo il video mia ciao mi vedo molto il lanciarazzi però solo lanciarazzi è 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 eliminato è 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 per non infatti sono proprio stupido perfetto piatti ho sbagliato no mi serve più per cosa per quel cuore ho startato di spagliore scuola Semi 9, io ho 2.24, non so, mi devo uccidere però deve prendere qualcosa ci sono niente la giacca non so non so non so che cosa? ALLO ecco ecco mi 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 Ma ci sono up e ah, mannaggia, mica ho distrattato questo ordine di me, cos'era aperta, mi ho proprio paura, questo è fatto. Oh, il nostro paura è vero. che si faccia la fata che si fa 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti